I scampoli di vacanza per il Catania che dopo l'amichevole di sabato con la primavera caratterizzata da una doppietta di Maxi Lopez e dai gol di Bergesio e Chieco ha potuto godere di due giorni di riposo in concomitanza con la sosta del campionato per gli impegni della Nazionale. I rossazzurri si ritroveranno domani pomeriggio a Torre del Grifo per iniziare con un allenamento a porte chiuse alla settimana di lavoro che condurrà alla trasferta di Livorno. Una gara, quella contro i Toscani, che per la squadra di Maran dopo i due stop iniziali sofferti contro Fiorentina e Inter dovrà rappresentare una vera e propria ripartenza. Il tecnico Etneo ha lavorato non poco ed approfittato della pausa agonistica per mettere a punto moduli e schemi tattici e per apportare le correzioni che si sono rese necessarie. Presto potrà avere a disposizione anche una rosa più completa, integrata dagli ultimi acquisti e da quei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. E a tal proposito c'è tanta attesa nella tifoseria Etnea per vedere all'opera Plasil il nuovo centrocampista ex capitano del Bordeaux impegnato domani sera a Torino con la Nazionale cieca contro gli Azzurri nell'incontro valido per le qualificazioni ai mondiali del Brasile. Nelle prossime ore sarà a Catania per riprendere gli allenamenti anche Nicola Le Grottaglie che ha sfruttato i due giorni liberi per sposare con il rito religioso la sua Erika dopo il matrimonio già celebrato in municipio il 6 luglio scorso. Anzi si comincia perché il campionato del Catania deve ancora iniziare. Livorno rappresenta una nuova partenza. Azzerate le prime due gare le sconfitte contro Fiorentina e Inter e le scorie lasciate dal calciomercato. Si riparte dunque con la voglia di riscatto anche dei nuovi arrivi. Penso che comunque la rosa del Catania è di alta qualità anche se magari in queste due partite non l'ha dimostrato sul campo perché purtroppo per dimostrarlo bisogna ottenere risultati però penso che la rosa sia di alto livello di medio alta classifica di una Serie A secondo me. Gli idee chiare quelle del terzino sinistro rosso azzurro Cristiano Biraghi ospite a sala stampa. In attesa che Monzone recuperi la forma migliore Maranne potrebbe puntare proprio sull'ex cittadella che vuole sfruttare al meglio la grande occasione di giocare in Serie A. Ho trovato un ambiente se si può dire speciale perché a partire dai compagni, dall'allenatore, ad arrivare allo staff, tutte le persone che lavorano dietro il calcio Catania che magari non stanno in sovraimpressione ma lavorano dietro devo dire che mi hanno fatto ambientare subito. Dopo due giorni di riposo e di relax a mare e in piscina e rosso azzurri domani si ritroveranno a Torre del Grifo mentre i nazionali rientreranno mercoledì. Maranne che ha già recuperato al Varets martedì dovrebbe ritrovare in gruppo anche Izco e Bellusci.